Signori miei, potremo salvare l'Europa dalla distruzione totale. Si deve dimostrare al mondo che non eravamo tutti come lui. Il rischio è troppo alto. Questo non cambia ciò che dobbiamo fare. Che cosa hai in mente? Possiamo servire la Germania e il Führer? Non entrambi. È per questi discorsi che è finito qui, colonnello. Ho detto anche qualcosa di peggio. Per servire il mio paese ho tradito la mia coscienza. Deve esserci la certezza del successo. È per questo che lei è qui. Dobbiamo uccidere Hitler. Posso contare su di voi? Ogni problema si risolve con l'uso attento di potenti esplosivi. Ma ricordi, niente va mai secondo i piani. L'operazione Valkyrie è in atto. Se la prenderanno la spezzeranno come un ramo secco. Se fallisco verranno a prendersi. Tutti. Lo so. Si rende conto di quello che ha fatto? Siamo stati scoperti. Ogni secondo che perdiamo a discutere è un secondo perso. Se vuole sopravvivere alla notte faccia esattamente come dico. Cosa mi fa credere di essere più forti del corso della storia? Mein Führer, posso presentarle il colonnello Stauffenberg. Operazione Valkyrie Operazione Valkyrie